Siamo organizzando una festa all'aperto. E saranno presenti tutte le creature della foresta briosa? Io adesso sto andando al salone di bellezza per farmi sistemare il ciuffo. Ci andrò anch'io, non appena avrò finito di sistemare... I palloncini! Scusami, carotena! Non si stacca più! Ti aiuto io? Una volta è successo anche a me. Accidenti! Devo andare a farmi sistemare il ciuffo al più presto! È colpa dell'elettricità statica. Accidenti, Chelsea! Che bei capelli! Chi c'è? Che cosa hanno i miei capelli? Niente, sono solo un po' elettrici. Non c'è da preoccuparsi. Ciao ragazze! Siete pronte per la festa? Che cosa è successo? Acero, hai forse fatto qualcosa di diverso ai tuoi capelli? No, non oggi. Perché? Ho i capelli tutti dritti! Posso specchiarmi anch'io, per favore? Barbie, che cosa sta succedendo? Non lo so. Ma strofinare un palloncino o pettinare i capelli non dovrebbe creare tutta questa elettricità. Non ditelo a me! È impossibile ballare in questo modo! Herberto e Hazel possono sistemare i vostri capelli, mentre noi cercheremo di capire cosa provoca questa elettricità. Va bene, l'abbiamo fatto in fretta! Wow, Barbie, questa è una vera mappa del tesoro! Sì, è stata creata dalla principessa Prisma. Lei è stata una delle prime a regnare sulla baia dell'arcobaleno. Eccola qui. Ha nascosto il tesoro da qualche parte nel regno e ha lasciato questa mappa con degli indizi. E nessuno l'ha mai trovato prima d'ora! No, ma pensavo che potremmo cercarlo noi. Gli indizi sono degli indovinelli. Davvero? Adoro gli indovinelli! Non avevo dubbi. Ok, ecco il primo indovinello. Se il tesoro vorrai trovare, la coda di un pesce dovrà indossare. Credo che la principessa Prisma stia dicendo che dobbiamo trasformarci in sirene. Allora il tesoro deve trovarsi da qualche parte nel mare arcobaleno. Andiamo! È ora di trasformarsi in sirene! Ciao Barbie! Ciao ragazzi, come va? Sono venuta perché anch'io ho un desiderio. Puoi creare un mio clone? Un clone? Questa è una richiesta un po' insolita. Perché? Perché un clone penserebbe esattamente come me, giusto? E potrei finalmente finire il puzzle rosa nel giardino dei puzzle. Due di me lo risolverebbero in un batter d'occhio. Il puzzle rosa è complicato e lo è anche il tuo desiderio. Ma penso che entrambe noi piacciono le sfide. Tu chiudi gli occhi mentre io userò un pizzico di magia. Osserva bene Chelsea. È simpatica e carina. Voglio creare una copia di questa dolce bambina. Ha funzionato? Forse dovresti voltarti e verificare tu stessa. Ciao Chelsea! Uno, due, tre... E con me siamo quattro! Ciao a tutti amici e benvenuti! Siamo qui per trasmettere in diretta le capelli olimpiadi della foresta briosa. Sono il vostro inviato, Delia l'unicorno. E io sono l'altro inviato, Brydon l'unicorno. È una bella giornata per divertirsi sotto il sole o dentro una bolla di sapone. Brydon, diamo un'occhiata più da vicino ai nostri concorrenti. Si stanno preparando per la prima sfida. Ognuno di loro deve scalare un pettine della parete pettinosa. Credi che riuscirò a raggiungere la cima saltellando così? Ecco, dovresti provare a saltellare in maniera diversa. Prova a fare come me! Una piruetta e una cule, oh tesoro. Grazie a questo raggiungerai per prima la cima, con stile. Con stile? Tu sì che mi conosci proprio bene? Smentila! Che cosa stai facendo? Oh, beh, sai, provo la mia espressione da gara. Ottima idea! Vedrai che cose vincerai. Davvero? Tu credi? Ci vuole così poco? No, dovrai comunque arrampicarti, ma ti aiuterà ad avere il giusto atteggiamento. Scala il pettine, scala il pettine, scala... Potrebbe essere difficile, ti do un consiglio. Quello che devo fare, Barbie. Ok, ottimo. Buona fortuna! Ciao, Barbie! Sono contenta che tu sia qui, Chelsea. Abbiamo un grosso problema. Avevo il sospetto che qualcosa non andasse. Cosa sta succedendo? Si tratta del colore verde, sta scomparendo. Guarda quell'arcobaleno. E laggiù! Oh no! Chelsea, ho bisogno di tutta la tua immaginazione per aiutarmi a capire cosa sta succedendo. D'accordo. Honey e io andremo a cercare qualcuno che ci possa aiutare. Sapevo di poter contare su di te. Oh no! Cosa sta succedendo? Non sono sicura. Chelsea, hai sentito? Oh no! Anche tu, principessa verde. Per favore, non preoccupatevi per me. Preoccuparsi? Stai svanendo! Risolveremo questa situazione. Qualcuna di voi per caso ha un'idea? Credo sia opportuno scoprire cosa stia succedendo, ma la principessa blu pensa... Posso dirglielo io, principessa gialla. Dovremmo chiedere ai pescicanterini se ne sanno qualcosa. Ma io non credo che ci saranno d'aiuto. Comincio ad essere un po' spiadita. Possiamo almeno provare? Ma certo! Allora andiamo a parlare con i pescicanterini. Tentar non nuoce. Ah, non funziona. Barbie! Ciao, Chelsea! Hai fatto riapparire la mia corona? Non ancora. Barbie, perché è irrelevante questa quella cosa? Purtroppo ha perso la sua corona e sto usando la magia per farla riapparire. O perlomeno ci sto provando. È tornata? Beh, no. Ma hai un bellissimo vaso con una palma dentro. Insomma, lì sopra sulla testa. Tranquillo, la faremo riapparire. Devo soltanto ricordarmi qual è l'incantisimo da usare. Come hai perso la tua corona? Non me lo ricordo, in realtà. Beh, quando l'hai avuta l'ultima volta in testa. Una gran bella domanda. Allora, è stato... Sì, beh, è stato... Non me lo ricordo. Credevo che gli elefanti avessero buona memoria. Questa dove l'hai sentita? Oh, la mia corona! È la mia corona! Che succede? Fermati! Il re elefante! Non è nulla! È solo Precious, il gatto! Scusami, Precious. Non sapevo che fossi tu a infilare i tuoi artigli da gatto nella mia testa. Ehi là, benvenute, Chelsea! Barbie zucchero filato! Honey! Cirifus e Mino! Ciao, Neo! Ciao anche a te, Sandy! Oh, allora anche voi conoscete gli unicorni? Unicorni? Perché andiamo matti per il gelato! A dire il vero, è perché i loro corni sono dei veri e propri coni gelato! Volete aiutarci a risolvere un mistero? Certo! Conta pure su di noi! Saltate su, vi diamo un passaggio! E magari anche un bel gelato! Eccoci, questa è casa nostra! O almeno lo era! Finché qualcuno non ha iniziato a mangiucchiarla! Segni di denti! Oh, credevo facessi io lo sceriffo oggi! Pensavo che stessi vendendo le tue granite! Oh, il mio carrettino! Volete una granita? Cosa crede sia successo, sceriffo Semino? Qualcuno sta mordichiando questo fienile! E penso anche di sapere chi sia! Un fragonorso! Sì, esattamente! Oh, aveva ragione! Sapete che non dovreste mangiucchiare le case altrui? Sì, ci dispiace! Credevamo non vivesse nessuno in questo fienile! Stava praticamente cadendo già a pezzi! Cosa? Questa è casa nostra! In effetti quella liquirizia è molto secca! Potrebbe sbriciolarsi! Che cosa succede oggi a Dolcità, Barbie? Il Principe Notto ha una grande sorpresa per tutti gli abitanti! Nessuno sa cosa sia! Io penso che abbia trovato un tesoro sommerso colmo di monete di cioccolato! Oppure vuole utilizzare il suo zaino razzo per fare un balletto! Siete tutti ai vostri posti? Le frutta sirene sono pronte all'azione, Principe Notto! Dopo questa super mega sorpresa, tutto il mondo conoscerà il mio nome! Gentili signore e signori, io, Sir Cacio de Caciottis, sono felice di annunciarvi l'apertura della nostra fantastica ed eccezionale fontana di limonata zampillante, costruita dal nostro Principe Notto e donata agli abitanti di Dolcità! Frutta sirene, fatela partire! Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno... Accensione! Oh, no! È così che dovrebbe fare! Credo sia per scoppiare! Honey, mi sembra che oggi stia succedendo qualcosa di molto interessante a Dreamtopia! Voglio dare a chi di a marmellata! Oh, la festa sta iniziando! Andiamo! È una festa! Signore e signori, ho il piacere di presentarvi la principessa Barbie Giravolta di Dolcità! Ciao, Chelsea! Sei arrivata appena in tempo! La festa delle dolci coppie sta per iniziare! Noi siamo una dolce coppia... ...che trasporta una dolce coppia! Vi presento Latte e la signorina Biscotto! E io vi presento i Fragolorsi! La festa delle dolci coppie è così divertente! Alla fine incoroneremo la coppia più dolce di Dolcità! Ci sono i compagni Marshmello, i gemelli Ciliegi... Burra da racchi di a marmellata! Aspetta! Dov'è marmellata? Era qui un attimo fa! Sai dove è andata, principessa dolce giravolta? Sembra essere sparita! Ma conoscete marmellata? A lei piace andare in esplorazione! Oh, non possiamo perderci la cerimonia di incoronazione! Aiuteremo noi a cercarla, burro da racchi! Su serio, Chelsea? Lo faresti davvero? Ma come facciamo con la festa? Non può essere andata molto lontana! Sono sicura che tornerete in tempo per la cerimonia! Coraggio, burro da racchi di! Seguiamo queste impronte di panna montata! Scusatemi! Ciao, io sono Chelsea! Voi sapete cosa dovrà dirci la principessa della foresta? No! E sono stanco di aspettare! Mi sto arrabbiando e scretolando! Grazie lo stesso! Andiamo a chiederlo direttamente a Barbie! Ok! Grazie a tutti per essere venuti! No, non funziona! È il momento di iniziare, vostra maestà! Siamo due minuti in ritardo sulla tabella di marcia! Sono quasi pronta! Ciao, ragazzi! Che bello vedervi! Niente, autografi! Grazie! La principessa sta provando il suo annuncio reale che dovete proclamare immediatamente! Andiamo! Andiamo! Scusate, amici! Parleremo più tardi! Sto iniziare! Ecco! Non so cosa avrà dirci! Grazie a tutti per essere venuti! Come sapete, nella foresta briosa siamo liberi di esprimere ciò che pensiamo ed è per questo che ho un annuncio reale da fare! Ma cosa vorrà dirci? Questa è decisamente la parte che preferisco di più! Oggi voglio parlarvi dei nostri amici batuffoli! Cosa vorrà mai dirci? Perché proprio noi? Potreste pensare che siano un po' grontoloni un po' pazzerelli o un po' malinconici ma loro sono più di questo! Loro rappresentano molte delle nostre emozioni! Sono un elemento importante della foresta briosa! Non è niente! È solo una delle mie foglie che sta facendo una passeggiata! Ripuliremo una parte del terreno e gli amici batuffoli avranno un bellissimo giardino! Che cosa ha detto? C'era troppo rumore! Tu hai sentito cosa ha detto Barbie? E come avrei potuto? Annie ha abbagliato tutto il tempo! Io ho capito cosa ha detto! Forte e chiaro! Dobbiamo lasciare la nostra terra! Cosa? Dobbiamo lasciare la nostra terra? Metteranno anche delle guardie per proteggerla! Oh no! Aspettate! Barbie non direbbe mai una cosa del genere! Beh, invece l'ha detta e noi l'abbiamo sentita! Voglio dire, credo che abbia detto questo! Esatto, ma non lo sappiamo con certezza e se non siamo certi dovremmo chiederglielo! Non siete d'accordo? Ma se dobbiamo lasciare la nostra terra... Dove andremo a vivere? Cosa faremo? Per favore, aspettateci qui! Andremo a chiedere a Barbie che cosa ha detto! Coraggio, Notto! Andiamo, Annie!